L'idea è nata proprio alla fine della scorsa edizione del Vespa Rock, sempre la festa del cavallo. Volevamo organizzare un viaggio con gli amici da fare in Vespa e in realtà però abbiamo deciso di implementare un viaggio da fare con gli amici con un'azione che avesse un'utilità sociale che fosse utile a qualcuno. Abbiamo pensato a provare a sostenere una realtà che si trova a Castelluccio di Norcia, quindi sotto il comune di Norcia che ha subito questo forte trauma legato al terremoto dell'ottobre del 2016 dove Castelluccio di Norcia è stata rasa al suolo. Abbiamo iniziato nell'ottobre del 2018 tutta una serie di eventi di raccolta fondi e tendenzialmente fra un mese esatto a quest'ora saremo in Umbria andando a consegnare al proloco di Castelluccio che abbiamo identificato come il destinatario di tutto questo progetto andando a devolvere i soldi raccolti in questi 8-9 mesi di lavoro, diciamo così e appunto partiremo una ventina di persone, saremo 11 Vespe e alcune persone sul furgone e arriveremo giù a Castelluccio dopo due giorni di viaggio in quanto come tratta è un viaggio abbastanza lungo si parla di circa 1700 km di fra andate e ritorno, quindi ripeto dopo due giorni di viaggio arriveremo finalmente a Castelluccio dove devolveremo la somma raccolta e poi torneremo indietro facendo un giro che passa dall'Emilia, arriveremo in Umbria, poi torneremo dalla Toscana a Liguria e torneremo a casa. Grazie